Amici di Lumismatica benvenuti a San Marino Oggi siamo stati invitati da una realtà locale che ci permetterà di vedere dal vivo come funziona veramente la certificazione delle monete tramite slab e adesso vi porteremo a scoprirlo Che cos'è Classical Coin Grading? Siamo un'azienda relativamente giovane e è un'azienda che si occupa di certificazione e perizia delle monete Io sono Noemi e da circa due anni lavoro all'interno di Classical Coin Grading Come e quando nasce Classical Coin Grading? Classical Coin Grading è nata da un'idea nel 2020 Siamo ancora relativamente giovani, una piccola azienda di San Marino ma stiamo iniziando a farci conoscere nel mercato europeo e anche mondiale E quali servizi offre? È un servizio di certificazione delle monete A ogni moneta viene associato un voto, un grado basato sulla scala Sheldon Qual è il processo che porta una moneta dal essere nelle mani del collezionista per poi essere inserita all'interno della certificazione e quindi rispedita poi al collezionista stesso? È un procedimento, ci sono varie fasi, noi raccogliamo il materiale, le monete o ai convegni come quello di oggi oppure le monete ci vengono spedite oppure possiamo anche inviare noi un corriere a ritirarle Il primo passaggio che viene fatto è che le monete vengono fotografate immediatamente Dopodiché inizia il processo di schedatura, a ogni moneta viene associato un template viene creata tutta una scheda appunto per quella moneta specifica Dopodiché si arriva al passaggio di chiusura quindi la moneta viene chiusa in questa scatolina protettiva in plastica antigraffio e in seguito viene poi rispedita al cliente Quindi mi dicevi che c'è comunque un modo per garantire l'anonimato di chi invia e conferisce le monete in modo tale che non ci siano preferenze, non ci sia in qualche modo un condizionamento da parte degli esperti che poi andranno a votare la moneta Sì esatto appunto, noi garantiamo l'anonimato in quanto le monete che vengono inviate agli esperti gli esperti appunto non vengono in contatto direttamente con il cliente e loro non sanno di chi sono le monete che stanno votando in quel momento A livello proprio di sicurezza, nel momento in cui appunto un collezionista decide di inviare le proprie monete un collezionista comunque ha molto attaccato le proprie monete esistono appunto dei metodi di spedizione sicuri in modo che sia tutelato Offriamo anche dei servizi di corriere con portavalori noi ad esempio ci affidiamo a Ferrari per quanto riguarda l'Italia che offre appunto un servizio di sicurezza maggiore rispetto al corriere standard Il miglior pregio di Classical Coin Grading è la velocità perché siamo l'unica azienda in Italia e a San Marino ovviamente che offre questo servizio e è uno dei pochissimi che lo fanno in Europa quindi le nostre tempistiche di lavorazione per l'Europa sono veramente ma veramente brevi si parla di un paio di settimane Perché un collezionista dovrebbe far certificare le proprie monete? Beh sicuramente avere una moneta certificata offre diversi vantaggi uno è la conservazione nel corso del tempo sicuramente proteggere la moneta in questo contenitore antigraffio cioè la preserva nel corso del tempo inoltre alla moneta viene appunto affidato un voto gli viene dato un grado di conservazione e quindi questo poi sicuramente la aiuterà anche nel dare un valore alla moneta stessa e questo può essere molto importante anche in molte aste infatti le nostre monete stanno iniziando a essere presenti in diverse aste in giro per l'Europa Prima di inviare le monete il collezionista comunque grosso modo ha un'idea di quale votazione quale grado potrebbero ottenere le monete stesse oppure deve direttamente inviarle poi dopo? Eh sì, no, di solito hanno... c'è bisogno di inviarle le monete devono essere viste fisicamente dagli esperti quello che possiamo fare è che a volte ci viene chiesto ci viene mandato una foto giusto a capire se vale la pena oppure no chiuderla chiaramente da una foto non possiamo dire il voto preciso però possiamo dire sì vale la pena, no, no, vale la pena C'è una critica che viene mossa molto spesso è eh ma gli slab costano tanto però per l'appunto dicevi bisogna valutare il pezzo da chiudere, da valorizzare all'interno Chiaramente le monete che vanno chiuse in slab sono monete che insomma valga la pena chiudere che abbiano una certa importanza anche se abbiamo clienti che comunque chiudono monete anche di valore minore dietro gli slab c'è una grande lavorazione e quindi è ovvio che un minimo di costo ci sia però a regola i nostri costi sono anche abbastanza contenuti rispetto ad altri Come modalità di conferimento delle monete abbiamo detto ci sono i rivenditori presenti all'interno delle fiere oppure si può venire direttamente a voi di Classical Coin Grading e conferire le monete In alternativa però ancora più comodo c'è la possibilità online appunto di conferire le monete Esatto sul nostro sito c'è la sezione in cui puoi o compilare un modulo online e effettui letteralmente un ordine, il tuo ordine verrà poi preso in carico da noi oppure puoi stampare il modulo cartaceo, lo compili a mano e ce lo alleghi alle monete che poi ci spedisci e cliccando il link qui sotto in descrizione o nel primo commento pinnato in alto inserendo il codice LUMISMATICA5 in fase di compilazione del form avrai diritto ad uno sconto per ogni moneta che andrà a certificare quindi cosa sta aspettando il link è qui sotto nella descrizione il codice sconto LUMISMATICA5 Devo dire che un po' sono emozionato perché ho visto partire le monete da casa mia arrivare presso di voi, mi avete mandato qualche foto così per farmi vedere comunque le monettine che erano arrivate sane e salve per questo ero molto contento devo dirlo ma adesso è la prima volta che andrò a vedere dal vivo le monete effettivamente certificate e quindi apro la scatola perché sono curioso un po' come un bambino in un negozio di giocattoli ecco qua abbiamo un po' di monetine cosa ho conferito? 10 dollari 1976 Olimpiadi di Montreal queste sono comunque monete MS69 perché comunque essendo una moneta moderna sulla scala comunque Sheldon la moneta moderna è in alta la conservazione anche perché questa veniva dalla confezione di zecca però sono più curioso di vedere le monete del regno perché essendo appassionato sì mi piacciono queste però sono molto molto curioso di vedere le monetine del regno e devo dire a primo impatto che secondo me così soprattutto una moneta del genere un marengo in alta conservazione viene veramente valorizzato certo è un qualcosa che deve piacere soggettivo però è comunque un modo diverso di vedere la propria moneta e viene valorizzata anche per una monetina così piccola perché non me lo aspettavo pensavo che comunque monetine più piccole un po' si perdessero all'interno della confezione ma devo dire che così non è male anzi mi piace mi piace poi comunque come conservazione devo dire che sono contento MS63 comunque avevo anche la mia valutazione personale più o meno era lì poi essendo un collezionista tendo un po' ad alzare perché comunque le monete sono mie e dico ci tengo molto ecco ci tengo molto ed ecco qua i due bei marenghini sì non posso dire altro se non belle 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 qui in alto a sinistra abbiamo il QR code se tu lo scansioni con il tuo telefono con l'iPhone basta la fotocamera con gli altri telefoni probabilmente serve un'app ti si aprirà la scheda online della tua moneta con il voto e con tutto il resto le altre informazioni ecco adesso proviamo ad inquadrarla ed ecco che mi esce la scheda della moneta con la certificazione il numero seriale quindi questo vuol dire che comunque c'è una tracciabilità della moneta una volta che io conferisco le mie monete poi può essere anche un vantaggio per chi va magari ad acquistare quel pezzo perché può verificare l'effettiva autenticità della moneta quali monete possono essere conferite allora tutte le monete possono essere conferite abbiamo dei limiti magari di diametri al momento abbiamo con questi nuovi inserti abbiamo allargato il nostro range di diametri andiamo dai 10 mm ai 45 con i nuovi inserti quali sono i progetti futuri di classical coin grading senza troppi spoiler dai stiamo sperando di espanderci sempre di più nel mercato e di crescere come azienda e poi di espandere anche i nostri mercati oltre le monete stesse magari si parla di carta moneta o perché no anche in altri settori ringraziamo classical coin grading per la bellissima giornata che abbiamo vissuto qui a san marino abbiamo avuto modo di visitare il convegno oltre che di scambiare una bellissima chiacchierata con noemi che ci ha spiegato tutto il processo che sta dietro alla certificazione delle monete tramite lo slab devo dire che ho trovato tanta professionalità sono rimasto soddisfatto dalle mie monete che ho inviato per la certificazione e devo dire che certi pezzi sono veramente usciti valorizzati dallo slab e quindi a questo punto vi lasciamo qui sotto il link per poter conferire anche voi e provare in prima persona questo servizio il link è qui sotto nella descrizione e nel primo commento linkato in alto ringrazio ancora classical coin grading e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti